In coincidenza con questa situazione che stiamo vivendo, mi riferisco alla pandemia, al Covid, ho pensato di mettere a disposizione una parte di questi beni per le esigenze che possono essere espresse in ogni ambito sociale, dall'amministrativo, alla scuola, all'ambiente produttivo, abbiamo chiamato gli spazi per ricominciare, perché chi vuole, chi ne ha bisogno soprattutto in questo momento, può avere a disposizione un bene confiscato, nella piena consapevolezza che questo patrimonio confiscato in qualche modo rappresenta un giacimento non completamente sfruttato, anzi molto parzialmente sfruttato. Sono 16.446 beni immobili destinati ai sensi del codice antimafia e sono invece in totale 17.376 gli immobili ancora in attesa di essere destinati. Secondo una ricerca dell'Eurispes il valore complessivo dei beni sequestrati e confiscati dalle mafie ammonta a 32 miliardi di euro. Solo i beni immobili sottratte alle mafie ammontano un valore di 4 miliardi 336 mila euro, dei quali 2 miliardi 85 milioni sono cash, liquidità. La legge per il riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati alle mafie compie 24 anni. Dal 7 marzo del 1996 la restituzione alla collettività delle ricchezze e dei patrimoni sottratte dalle organizzazioni criminali è diventata un'opportunità di impegno responsabile per il bene comune. Lo ricorda l'associazione Libera che promosse la raccolta di firme che portò al varo della legge. Libera chiede che la strategia nazionale per la valorizzazione pubblica e sociale dei beni confiscati sia resa operativa a tutti gli effetti. Accanto ai risultati positivi raggiunti sono tante le criticità e i nodi da superare. Abbiamo iniziato un percorso che ci porterà, spero entro fine mese, entro questo giugno, a pubblicare il primo bando, che noi chiamiamo sperimentale perché è la prima volta che si fa, ma abbiamo un bando che è ben strutturato, quindi sarebbe tutt'altro che sperimentale, per affidare alle associazioni, fondazioni, Ollus, sui organismi del terzo settore, beni immobili confiscati in via definitiva. Quindi non più questi beni arriveranno nelle mani di questi soggetti attraverso l'opera di mediazione degli enti locali, dei comuni in particolare, ma lo faremo noi direttamente dall'agenzia. Questo sicuramente significa un po' semplificare e accelerare il percorso di destinazione dei beni immobili. Si salterà un passaggio sicuramente e saremo noi a poter affidare questi beni. Naturalmente lo faremo tenendo conto che dovremo valutare il merito tecnico e il merito anche finanziario di questi progetti in ambiti tematici che noi abbiamo indefinito e specificheremo nel bando. Si va dall'area della sicurezza e della legalità, si va nell'area ovviamente più del servizio alla persona, di vicinanza ai problemi della socialità, dal disagio dei giovani alla violenza alle donne, quindi centri di ascolto, centri di tutela di questi soggetti più vulnerabili e più deboli della società. Poi in altri ambiti come quello della protezione civile, insomma cinque ambiti tematici abbastanza intrecciati tra di loro, quindi i progetti potranno anche avere un'iniezione di risorse finanziarie. Noi sappiamo che le associazioni non hanno una capacità finanziaria illimitata, quindi hanno bisogno di avere una mano d'aiuto a portare avanti la loro progettualità. Ecco noi abbiamo avuto dalla legge di bilancio di quest'anno delle risorse, un milione di euro non sono risorse infinite ma nemmeno banali, che potranno essere destinate a queste progettualità, metterle in campo e a farle diventare qualcosa di concreto.